io ci sto mettendo la mia faccia e vi posso garantire che è un incisore che funziona bene e può regalarvi degli ottimi risultati ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi vi farò la recensione di un altro incisore laser si tratta del nasum modello a5 pro un laser che ha una potenza di 5,5 watt che permette di fare veramente tantissimi tipi di incisione questo laser farà contenti tantissimi di voi perché spesso sotto commenti o anche in privato in tanti mi contattate e mi chiedete se esistono incisori laser che abbiano una dimensione un'aria di stampa abbondante ma che non costino cifre esorbitanti e io ho sempre sostenuto che se compri un incisore laser che costa poco come un potuto sicuramente non avrai le stesse prestazioni degli incisori laser comunque degli utensili in generale che costano di più questo lo sappiamo ci sono cose che costano poco sono destinati agli hobbisti per un utilizzo saltuario e cose che costano di più perché devono fare un lavoro intenso poi ci sono gli incisori laser che costano poco perché non sono potenti quindi sono di buona qualità ma hanno una potenza limitata in base all'utilizzo di cui abbiamo necessità e incisori laser che costano di più perché hanno prestazioni elevate poi ci sono altre occasioni nelle quali incisori laser costano tanto perché oltre ad essere buoni sono molto accessoriati questo è un incisore laser buono che lavora bene ora vi farò vedere tutto quello che sono riuscito a ottenere sia inquadrandolo adesso durante il video che mettendo delle riprese tutto ciò che ho fatto vi farò anche la descrizione e spero di ricordare le varie impostazioni che ho utilizzato per le varie incisioni perché a volte le segno a volte preso alla fuga lo dimentico questo incisore laser a pochi fronzoli semplicemente funziona bene mi mancano i sensori di fine corsa mancano tutti i vari led mancano tutti i fronzoli che abbiamo nei vari incisori laser che per carità arricchiscono sono utili piacciono ma se qualcuno ha un budget un pochettino più limitato non ha la disponibilità di affrontare quella spesa perché altre spese in previsione allora può comprare questo incisore laser che vi farò vedere quello che è capace di fare e che costa circa 250 euro ma spero di farmi dare un codice di sconto ancora il prezzo chiaramente non l'ho capito perché mi hanno dato dei link di amazon francese amazon tedesco insomma forse disponibile anche su banggood comunque ora questo lo vedremo vi lascerò comunque tutti i link questa è stata un'introduzione un pochettino più lunga rispetto alle solite però ci tenevo a precisarlo perché se cercate la qualità cercate questi risultati questo incisore laser può essere la soluzione ideale iniziamo e allora ragazzi abbiamo davanti tutto quello che ho realizzato con questo incisore laser però prima di iniziare a parlare di ciò che ho realizzato e come si utilizza voglio farvi vedere un rapido video dell'unboxing e ovviamente rapidamente anche il montaggio e quindi Grazie a tutti. 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 traverso quando c'è un prodotto messo sul bancone io sono un metro e 97 quindi devo per forza inclinare l'inquadratura cosa dire di questo incisore laser come avete visto io sono davvero soddisfatto sono contento del risultato che ho ottenuto e questo video mi rendo conto che è diverso dagli altri perché è un prodotto semplice un prodotto che nasce per ottenere un risultato e vi dà quel risultato riesce ad incidere sul metallo sulla pietra sulla pelle riesce a ritagliare la pelle a incidere sull'alluminio verniciato sono riuscito a ottenere un risultato nitidissimo e precisissimo sullo specchio sono riuscito a tagliare il compensato sottile è compensato un pochettino più grosso insomma diciamo per questo incisore laser come ho detto per tutto il video può essere la soluzione ideale per chi ha un budget un pochettino più limitato perché sta affrontando altre spese o semplicemente non vuole investire una cifra elevata su un articolo che magari utilizzerà raramente ovviamente non è un prodotto professionale però un laser che costa circa 250 euro e per il quale spero di ottenere un codice di sconto che vi permette di ottenere questi risultati secondo me è da acquistare poi ovviamente se voi avete necessità di sensori di fine corsa avete necessità del display o volete qualcosa di un pochettino più ricco da questo laser per quanto riguarda l'accessorio che viene dato in dotazione non potrete averlo ma per quanto riguarda la qualità io visto ci sto mettendo la mia faccia e vi posso garantire che è un incisore che funziona bene e può regalarvi degli ottimi risultati cliccate nel link giù che trovate nel primo commento nella descrizione trovate il nasum a5 pro e eventualmente acquistatelo detto questo non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace al video se vi è piaciuto l'avete ritenuto utile cliccate sulla campanella giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto